A notare che qualcosa non andava era stata la proprietaria di casa, insospettita da un insolito via vai dall'appartamento che aveva affittato in via della Chimera ad Arezzo. La donna così preoccupata aveva deciso di chiamare le forze dell'ordine. Ieri mattina l'intervento degli agenti della squadra volanti della questura di Arezzo guidate da Luigi Stanzione, dell'affittuario ormai da tempo moroso nessuna traccia, ma una volta entrati gli agenti hanno trovato in camera da letto un quarantenne con numerosi precedenti per furto, sorpreso con oltre 50 grammi di hashish. Sempre nell'appartamento poi c'era anche una trentenne, una cittadina tunisina del tutto irregolare sul territorio nazionale. Per l'uomo sono così scattate le manette per spaccio, la giovane è stata invece spulsa.